Su questa fusione però non tutti sono d'accordo, tra questi in base a quanto trappelato nei giorni scorsi il vicepresidente della Proloco di Monbaroccio, Varis Iacucci e il fratello Navario, vicepresidente dell'Aves che vediamo proprio in collegamento, qui siamo nella piazza di Monbaroccio Ecco, Varis, come mai non siete favorevoli a questa fusione? Ma non è che non siamo favorevoli, il discorso innanzitutto l'Aggiunta, il Sindaco doveva avvertirci, almeno dirci qualcosa qui tutto al buio, noi eravamo in montagna, come avete detto voi, abbiamo appreso dai giornali che era in fusione Monbaroccio e Pesaro per noi è stata come un fulmine, diciamo, una schiopettata, proprio lo dico in gergo venatorio è stata una cosa, diciamo, deludente, ma non lo dico solo io, lo dice il 99% dei monbaroccesi io dico se ne parlava, poi se è proprio la legge, perché ancora mi risulta che non c'è una legge regionale quindi se poi la legge dice di fonderci, ma io dico ai 40 anni che sto facendo il volontario per creare Monbaroccio migliore ma invece andremo sicuramente in peggiore, non in migliore abbiamo creato a Monbaroccio dei sistemi di musei, musei innanzitutto, quindi per me non lo so come andremo a finire io sono un po' perplesso, poi se sta fusione si deve fare, ma io veramente, guardi, andrei via da Monbaroccio perché mi sono disgustato al massimo, guardi Bene, abbiamo appena sentito Varis, proviamo invece adesso a passare il microfono a Navario Navario, come diceva tuo fratello, insomma, da 40 anni siete nel mondo del volontariato per cui immagino abbiate sentito già anche pareri contrari o favorevoli anche dei residenti di Monbaroccio che cosa vi dice la gente? Certamente, certamente, qui purtroppo nessuno è contento come dicevo anche ultimamente al sindaco in una riunione pubblica la gente è scontenta, però nessuno parla nessuno parla, sono sempre i fratelli Iacucci per cui ci dicono anche, sono sempre loro però è la verità perché la gente non è contenta dove andremo a finire? è vero, parlano di soldi però questi soldi, come siamo arrivati adesso a non avere una lira? cioè, nessuno mai ci ha detto niente anche l'ultimo consiglio nessuno ha parlato hanno chiuso il bilancio non ha parlato di debiti così presi per la gola oggi come oggi si trovano a fare questa cosa ma domani dove andremo a finire? saremo una periferia di Pesaro la nostra autonomia Monbaroccio non piango perché sono grande ma mi viene da piangere guardi sono nato a Monbaroccio cittadino di Monbaroccio 35 anni ho passato nell'Avis come segretario come presidente dove andranno a finire le nostre associazioni? l'Avis non avrà più modo di esistere perché c'è Pesaro siamo con Pesaro penserà a Pesaro ma non è questo il nostro stema comunale la nostra municipalità dove andremo? andrà adesso per 4-5 anni saranno i grandi faranno furore poi saremo un piccolo paese una periferia di Pesaro non saremo più un paese saremo la periferia di Pesaro dimenticata da tutti oggi come oggi lo dicevo anche ultimamente al sindaco non riuscite voi a pulire questo centro storico domani Pesaro manderà l'operaio a pulire i nostri vicoli no cerchiamo di farlo noi cerchiamo di tenere questo paese al meglio perché la gente che viene dicono che il paese è bello ma andrà a morire grazie comunque grazie grazie ai fratelli Iacucci per questo intervento poi nei prossimi giorni vedremo appunto l'evolversi di questa fusione grazie a tutti